Maestà, i moschettieri, o quello che resta. Moschettieri, ho deciso di regalarvi un trionfo. Un tronfio solo e noi siamo tre. In realtà starete scortando in gran segreto la principessina Ginevra. Ginevra, io e lei siamo innamorati. Quella ragazzina te la devi scordare. Brigitte, pardon, pardon. Mia figlia è stata rapita. Si è rapita? Rapita. I ribelli attentano il trono. La monarchia è in pericolo. No, Pinocchio. È la nostra ultima missione. Decidiamola noi. Lui parla, eh? Parla. Seguiamolo. Sogna un mondo migliore. Andiamo a prenderci il futuro. Voi siete i miei eroi e lo siete sempre stati. Dove lo lasciamo sto ragazzino? È pieno dei boschi. Ma come i boschi? Ci sono le lupi, la tigri, le ofrate. Sì, stiamo in Mesopotamia. Sì, stiamo in Iscritto. Grazie a tutti